il libro di oera linda prologo la storia dimenticata di un continente scomparso nel 1876 a londra compare un libro scoinvolgente dal titolo il libro di oera linda derivato da un manoscritto del tredicesimo secolo edito da trabner e co che era uno dei più seri presenti sul mercato e non c'era alcun motivo di pensare a una falsificazione il fatto poi che accanto al testo in inglese venisse riportato anche quello originale in frisone la lingua della frisia la parte più settentrionale dell'olanda era una garanzia aggiuntiva di serietà offrendo l'opportunità agli studiosi di verificarne l'autenticità il fatto importante però sta scritto nelle pagine del libro e se questo è vero la storia del mondo antico va completamente riveduta e corretta si racconta che nel terzo millennio avanti cristo nel tempo in cui vennero innalzati i grandi megaliti a stonehenge nel nord dell'europa esisteva una grande isola continentale abitata da una razza altamente civilizzata nel 2193 avanti cristo l'isola scomparve svanita come l'altrettanto leggendaria atlantide completamente disintegrata da immense catastrofi molti superstiti riuscirono a trasferire la loro civiltà altrove volgendosi verso l'egitto e creta compresa infatti nel libro di o era linda leggiamo che minno minosse il favoloso re di creta costruttore del labirinto era un frisone e che era stata questa sua civiltà a originare in seguito quella ancora più splendente di atene tutto questo era sembrato così straordinario e scoinvolgente che in prima battuta gli studiosi tedeschi e olandesi scrollando le spalle sorrisero fra loro pensando a una colossale truffa e considerando che il trucco pur inscenato bene si riferisse probabilmente non a un falso moderno ma antico vecchio di un secolo o due cosa che l'avrebbe al massimo spostato nel tempo attorno al 1730 il libro di o era linda era stato dimenticato in un cassettone ed era saltato fuori solamente nel 1848 essendo a ciò che si leggeva nell'introduzione scritta nel 1871 il libro era stato conservato presso la famiglia linden o linda da tempo immemorabile ed era scritto in una lingua simile al greco l'avvio era costituito da una lettera di un tal lico o era linda datata 803 dopo cristo in cui l'uomo diceva che avrebbe conservato il libro col corpo e con l'anima poiché in esso era contenuta la storia della sua gente nel 1848 il manoscritto era stato ereditato da un certo c over de linden versione moderna del casato o era linda e quando un importante linguista il professor vervis aveva chiesto il permesso di esaminarlo immediatamente riconobbe nel misterioso linguaggio del libro l'antichissimo frisone una forma arcaica di olandese la versione esaminata dal professore era una copia dell'originale datata 1256 riportata su pagine realizzate con fibra di cotone e scritte con un inchiostro nero che non conteneva ossido di ferro infatti non era diventato bruno nell'introduzione a firma del dottor j o ottema il libro di o era linda raccontava la storia di un'isola continente chiamata atlant o aldeland posta all'incirca alla stessa latitudine delle isole britanniche in quel di mare che oggi chiamiamo mare del nord di fronte verso nord delle coste olandesi il manoscritto narrava che atlant godeva di un ottimo clima e di abbondanza di cibo e fintanto che i suoi governanti si erano mantenuti saggi e religiosi l'isola era rimasta serenamente in pace il suo leggendario fondatore era stata una donna semidivina fria una versione della nordica freia la dea lunare il cui nome significa signora nel capitolo 20 c'è un sunto della mitologia nordica e slava che permette di confrontare personaggi e luoghi con alcuni di quelli presenti nel libro di o era linda gli abitanti di atlant veneravano un solo dio che si celava sotto il nome di vralda fria era la prima di tre sorelle le altre si chiamavano lida e finda lida aveva la pelle scura ed aveva dato origine alle popolazioni negroidi finda aveva la pelle gialla e aveva dato origine alle popolazioni orientali fria aveva la pelle chiara fino a qui si tratta probabilmente di una leggenda creazionistica ma il libro prosegue raccontando una storia che nulla vieta sia realmente accaduta nel 2193 avanti cristo una catastrofe immane sconosciuta aveva colpito atlant che era stata inghiottita dalle acque dell'oceano la logica suggerisce che allo stesso modo sarebbero dovute scomparire anche le isole britanniche dal momento che erano vicinissime al misterioso continente ma se atlant era un territorio sotto il livello del mare come gran parte dell'attuale olanda si comprende facilmente il perché della spaventevole catastrofica alluvione esiste infatti il cosiddetto banco di dogger dove la leggenda colloca atlant che corrisponde alla parte meno profonda anche solo 8 metri del mare del nord in questo libro le popolazioni che vengono create non sono certo frutto di fantasia in un libro successivo si parla a lungo di un prode guerriero di nome friso ufficiale di alessandro il grande nato nel 356 avanti cristo citato anche in altre cronache storiche dei popoli del nord in queste cronache si dice che friso giungeva dall'india nell'oera linda l'eroe viene fatto discendere da una colonia di frisoni stanziatisi nel punjab intorno al 1550 avanti cristo mentre il geografo greco strabone menziona queste stranissime tribù indiane da lui chiamate in modo generico germania nel libro si parla inoltre della fondazione di atene da parte di minerva il testo ci ricorda anche ulisse e la sua ricerca alla caccia della sacra lampada una profetessa gli aveva predetto che qualora l'avesse trovata sarebbe diventato re d'italia fallito il tentativo di farsi consegnare sotto lauta ricompensa in molti tesori portati da troia la lampada dalla sacerdotessa la madre terra che la custodiva ulisse aveva fatto vela fino a raggiungere un luogo chiamato vallallagara nome che suona molto simile a vallalla dove aveva avuto una storia d'amore con la principessa calip ovviamente calipso e con la quale era convissuto per molti anni fra lo scandalo e la disapprovazione di tutti coloro che lo conoscevano questo frammento di storia greca inserito nel libro di oera linda è quanto mai interessante date le avventure di ulisse attorno al 1188 avanti cristo vale a dire una cinquantina di anni oltre la moderna datazione della caduta di troia ma lo era linda potrebbe essere nel giusto da quel che la leggenda tramanda la ninfa calipso era una burt gmagd parola che significa vergine suprema una sorta di capo di un gruppo di vergini vestali un concetto che trova riscontro nelle affermazioni fondamentali dell'ora linda secondo il quale dopo il diluvio i frisoni avevano preso a navigare per tutto il mondo conosciuto civilizzando l'area del mediterraneo per spingersi fino in india ma non solo ci sono situazioni che si adeguano alle teorie esostatiche di bidel airi con l'interramento dello stretto canale di suez preesistente forse dovuto all'episodio terra di santorini recentemente sono state rinvenute mummie nelle regioni cinesi con aspetto prettamente nordico capelli biondi o rossi con occhi azzurri e o di alta statura oltre i due metri conosciuti anche come l'uomo di kerken che possono essere riferibili a queste migrazioni ed inoltre per fare un esempio se accettiamo che l'isola di calipso valla alla gara era l'isola di valcheren nel mare del nord allora ulisse aveva compiuto i suoi viaggi al di fuori del mediterraneo una situazione assai più complicata che rende la versione di omero decisamente più difficile da accettare altri autori recentemente hanno preso in considerazione questa eventualità trovando riferimenti molto convincenti per esempio omero nel baltico di felice vinci a tutt'oggi comunque non esistono prove che il libro sia un falso e per questo motivo che sarebbe quanto mai utile una nuova moderna edizione del testo non solo per consentire agli studiosi di valutarlo appieno ma anche per permetterne la lettura ai lettori comuni certamente affascinati dai tanti racconti di battaglie e uccisioni intanto cerco con la presente traduzione in italiano di renderlo fruibile al pubblico interessato anche se esso non è certamente scorrevole come un romanzo e tratti dei vari argomenti passando dall'uno all'altro talvolta in modo improvviso come emozioni e pensieri annotati rapidamente su un foglio bisogna però essere consapevoli che se qualcuno riuscisse a dimostrare in modo incontrovertibile l'autenticità del libro di oera linda ovvero sia che racconta fatti realmente accaduti allora la storia dell'umanità dovrebbe essere completamente rivisitata e conseguentemente riscritta breve cronologia avanti cristo 2193 sommersione di atlant 2163 calcolo alternativo per la sommersione 2150 fine del primo periodo minoico 2140 festa apre la cittadella a medesblik 2092 i finnici si stabiliscono in finlandia 2012 minna madre terra i finnici invadono schunland 2011 odino conduce i compagni a liberare schunland 2000 teunis fonda tiro a sud di sidone 1750 fine del periodo intermedio minoico 1650 eruzione di terra 1650 fine del tardo minoico 1620 ion entra nel mar mediterraneo 1615 probabilità di fondazione di atene da parte di minerva 1600 calta fonda l'impero celtico 1600 minno e l'inizio dell'età classica a creta 1590 gert la madre del borgo di atene 1555 distruzione di knosso e fine della civiltà minoica 1550 gert man si stabilisce nel punjab 1500 invasione ariana dell'india 1400 data ortodossa dei veda 1200 1190 guerra di troia 1188 storia di ulisse 591 frana madeterra e texland 586 invasione di texland e morte di frana 560 adela agisce come un madre terra non eletta 558 scritto il primo libro del libro di adela 557 ulteriore invasione e morte di adela 540 apollonia scrive delle prossime generazioni 325 gertman lascia il punjab con nearchus 323 morte di alessandro 305 secondo disastro geologico 305 demetrius assedia rodi 304 gosa ma conta eletta madre terra 303 ritorno di gertman 290 il tempo di fritoric e willio contribuiscono all'evoluzione e stesura del libro 265 la morte di friso 250 adel diventa capo conte con la sua sposa ifchia 250 progetti di ricostruzione effettuati da conered 70 età approssimativa di re askar 50 cesare annette la gallia a roma 10 beden contribuisce al libro dopo cristo 803 lico over de linda salva il libro dall'inondazione 1256 hid over de linda ricopia il libro su nuova carta 1848 cornelius over de linden riceve il libro da sua zia 1867 dottor vervis traduce il libro dall'antico frisone 1871 traduzione tedesca del libro 1876 pubblicazione in inglese del libro o era linda 2004 traduzione in italiano sul sito www misteromania.it viaggiando attraverso il mistero provided in ogni prima volta alleры Abbiamo la p cards non 8agar